In questo video siamo sicuri che il dolore a un muscolo è di tipo muscolare, cioè origina dal muscolo? Che cosa potrebbe essere invece e perché ho smesso di trattare i muscoli? Sono il dottor De Filippo, fisioterapista, e agisco sulla causa per eliminare i sintomi. Sono specializzato in terapia manuale dolce ed esercizi perché sono quelli che mi danno risultati migliori, più a lungo termine e senza effetti collaterali. E ora leggi attentamente il disclaimer. C'era una volta il fisioterapista che faceva questi trattamenti coi gomiti, coi pugni, con le nocche, spingeva, premeva fortemente sul dolore del paziente e questo qui a un certo punto o si metteva a piangere o si alzava e diceva che stava meglio pur di andarsene. Ok sto scherzando però diciamo che c'è un po' un'evoluzione adesso della fisioterapia, un po' della terapia manuale, perché si va verso trattamenti sempre meno dolorosi, nel senso che anni fa si facevano questi trattamenti molto dolorosi sui punti trigger, sui muscoli dolenti, sulle zone che facevano male, si facevano delle manovre piuttosto forti, piuttosto pesanti. Ora abbiamo cambiato un po' il modo di lavorare perché? Allora innanzitutto bisogna capire che l'origine del dolore è la cosa fondamentale che ci deve guidare, altrimenti si fa un trattamento così come viene, viene sul sul muscolo dolorante, si cerca di sciogliere un po', si aumenta la circolazione, il paziente per un po' sta meglio ma poi torniamo al punto di partenza. Invece il nostro obiettivo è sempre andare alla causa e sempre andare all'origine, perché se io tolgo l'origine posso avere dei risultati a lungo termine. Se io invece continuo a lavorare sempre solo sul sintomo e magari l'origine da tutt'altra parte non avrò mai dei risultati a lungo termine, posso avere dei risultati a breve termine, posso avere qualche risultato migliore nei casi dei ragazzi giovani, nei casi traumatici, però generalmente non si va molto lontano. Diciamo un po' come prendere un farmaco. Ora cerchiamo intanto di capire da dove viene il dolore e che tipo di dolore è. Allora tutti avremmo fatto una sforza a nostra vita, avremmo sollevato dei pesi, avremmo fatto dei lavori che ci hanno portato ad avere una contrattura, oppure il cosiddetto acido lattico, oppure la carne greve. Anche lì dopo apriamo un'altra bella parentesi perché è un po' diverso da come ce l'hanno dipinto fino a tanti anni fa. Comunque abbiamo fatto degli sforzi che ci hanno portato dei dolori muscolari. È chiara l'origine perché io prima di fare lo sforzo stavo bene, faccio lo sforzo, dopo sto male e quindi ho un bel dolore che se si presentano i muscoli che hanno lavorato, è chiaro che è nato da lì. Quindi l'origine è quella. Questo è un dolore però benigno, mi spiego meglio. È un dolore che passa in pochi giorni. Può durare un po' di più se la persona non è allenata, se ha fatto un lavoro nuovo, se ha fatto un lavoro esagerato rispetto alle sue capacità. però insomma parliamo di minimo un giorno, due, massimo cinque, sei, sette giorni. Può poi esagerare. Bisogna però capire che non sempre la causa è così chiara. Nel senso uno fa tutti i giorni un certo tipo di lavoro, poi viene qua e mi dice io ho un dolore muscolare perché faccio questo lavoro. Ok, però sono vent'anni che fai quel lavoro e sempre lo stesso lavoro. Non puoi avere un dolore oggi che fino a ieri non avevi. Ok, poi vai a indagare meglio e cosa ti dice questo paziente? Io ho dolore in un punto. Invece il dolore di tipo muscolare prende tutto il muscolo. Nel senso se io vado a fare questo sforzo e mi viene una contrattura al bicipite, cioè a questo muscolo, io non ho dolore in un punto, ho dolore in tutto il muscolo. Chiaro no? Ho fatto uno sforzo di tutto il muscolo e quindi tutto sta pagando e quindi mi causa questo fastidio. Se io invece ho un dolore in un punto, vediamo il punto cruciale. Cerchiamo ora di capire il dolore invece in un punto specifico. Allora, tutti conosciamo qualcuno che ha sempre un dolore in questa zona, diciamo sopra l'angolo della scapola, chiamiamola zona del trapezio per capirci meglio, che è questo muscolo enorme che parte dalla nuca e da tutta la colonna vertebrale fino alla fine della colonna dorsale sale e arriva fino alla spalla. Quindi ci sono queste persone che hanno sempre un dolore lì e chiunque vedono gli chiedono se può massaggiare un po' perché così riescono ad avere un po' di sollievo. Mi ricordo anche una collega all'università che si sedeva davanti e mi chiedeva di massaggiarle un pochino questa zona per avere un po' di sollievo perché le faceva male e probabilmente queste persone continuamente chiedono a mi massaggi qua e massaggi là e io immagino una per strada, senta lei mi può massaggiare un pochino qua che mi fa male, grazie. Adesso ho esagerato però è un continuo perché è un dolore più costante, è un dolore più fastidioso rispetto a un dolore muscolare che nel momento in cui siamo a riposo nella posizione giusta dà molto più sollievo. Ora che cos'è questo questo punto? Perché questo punto fa male proprio lui? Dobbete capire che qua sopra l'angolo della scapola termina un muscolo chiamato elevatore della scapola. Questo muscolo è attraversato da un nervo, un nervo che si chiama perforante quando origina nella parte più profonda del corpo e arriva verso all'esterno, quindi più in superficie. Dove questo muscolo passa dalla parte più profonda alla parte più superficiale c'è un punto critico. Questo punto critico può dare dolore, può dare dolore puntiforme ed è un dolore un pochino diverso da quello del muscolo. È un dolore più fastidioso, più costante. Abbiamo quindi visto che il dolore di un muscolo, che noi sentiamo a livello di un muscolo, perché ovviamente uno non è che ha gli occhi come la risonanza riesce a vedere all'interno del corpo, riesce a vedere le parti che fanno male quali sono. Noi sentiamo un dolore localizzato in un punto, vediamo che lì c'è un muscolo, immaginiamo ok allora è un dolore di un muscolo e invece no. A volte sì, a volte no comunque. Quindi in questo caso il dolore di un nervo. Quindi quando è un punto non pensiamo che sia un dolore muscolare, perché il dolore muscolare ha tutt'altro tipo di caratteristica. Abbiamo visto il dolore che può venire da uno sforzo, il cosiddetto acido lattico, carne greve, DOMS. Adesso vi spiego un attimo che cosa vuol dire. Immaginiamo di fare una seduta di allenamento in palestra, quindi col nostro peso facciamo tanti sollevamenti. Cosa succede? Che ok, subito ci sarà questa produzione di acido lattico, ma l'acido lattico viene smaltito. Qui ci hanno sempre detto, se hai dei dolori dopo aver fatto allenamento, è una questione di acido lattico. In realtà no, o meglio, può essere un problema di acido lattico mentre facciamo l'allenamento e per poco tempo dopo, 10 minuti, mezz'ora, un'ora, però l'acido lattico viene smaltito. Cosa succede? Succede che poi ci sono delle micro lesioni, delle micro lesioni del tessuto muscolare e la conseguenza è un'infiammazione. Un'infiammazione, io la chiamo terapeutica, chiamatela come vi pare, però è un'infiammazione, cioè una reazione del corpo a un danno. Il corpo ha interesse a riparare il danno, quindi crea questa infiammazione per pulire, diciamo, il danno e delle sostanze nutrienti, nutritive, per poter ripristinare la situazione iniziale. Però finché c'è questa infiammazione, noi avremo dolore. Non vi sto a fare tutto il pipone delle sostanze chimiche che creano dolore durante l'infiammazione, comunque sappiate che è tutto normale, che l'ha causato il corpo e che pian piano passa. Come probabilmente ve ne siete già accorti dopo aver fatto uno sforzo che vi rimangono questi dolori muscolari. Questi sono dolori proprio muscolari e quindi sono dolori in tutto il muscolo più o meno. Si sentirà una fascia di dolore, non si sente un punto. Quindi questo è come si presenta il dolore di tipo muscolare e non si presenterà mai in un punto. Cosa che invece succede al nervo perforante che quando esce dall'interno del corpo all'esterno, diciamo alla parte più superficiale, può dare dolore in un punto. Ok, ora torniamo al discorso iniziale del famoso trattamento dei muscoli con gomiti, ginocchia, nocche, trattamenti molto dolorosi per il paziente e che quindi oggi pian piano stiamo abbandonando, perché abbiamo visto che ci sono degli altri trattamenti che si possono fare senza dare dolore al paziente, però possono avere la stessa efficacia e anche molto di più. Allora, introduciamo il discorso dei nervi. I nervi comandano tutto. I nervi sono come delle corde in pratica. Partono dal cervello, c'è il midollo spinale e poi da qui partono tutti i nervi al resto del corpo. Ora, i nervi portano tutti i segnali. Portano i segnali dal corpo verso il cervello e portano gli impulsi dal cervello verso il corpo, perché sono loro che comandano tutte le attività. Niente può succedere nel corpo che non lo vogliano i nervi. La circolazione è comandata dai nervi, l'attività degli organi è comandata dai nervi e anche l'attività muscolare è comandata dai nervi. Quindi se noi abbiamo bisogno di muovere una parte del corpo, prima parte l'impulso del nervo e poi si contrae il muscolo. Quando abbiamo quelle terribili malattie dei nervi che non permettono la contrazione muscolare, in realtà il muscolo sta benissimo. È il nervo che però non conduce e quindi mi crea tutti i sintomi. Ora, se noi riflettiamo un attimo sulle varie terapie, pensiamo per esempio alla chiropratica, all'osteopatia, alla kinesiologia, queste agiscono sui muscoli ma in maniera indiretta, perché vanno a lavorare sul nervo. Lavorando sul nervo io posso rilassare un muscolo, anche senza dover lavorare direttamente sul muscolo, anche perché io posso sciogliere il muscolo con una manipolazione, un massaggio, una terapia diretta sul muscolo, ma questo inevitabilmente tornerà a contrarci appena avrò finito il mio trattamento. Quindi magari il paziente ha sollievo un giorno ma poi torna indietro. Ci sono rari casi, per esempio dopo una maratona anch'io faccio il massaggio sportivo, perché il paziente mi rendo conto che ha indurito molto il muscolo, quindi può essere un problema più muscolare. Però generalmente i cosiddetti dolori che abbiamo, i dolori cronici, se non abbiamo fatto queste maratone, non facciamo tutti i giorni chissà quali allenamenti, sono dati dal nervo, da una disfunzione del nervo. Quindi immaginate quei cric-crac che vedete sui social molto scenografici, crac-crac, che adesso si vedono anche con martello e scalpello, si vedono delle botte da orvi in pratica. Non fanno altro che lavorare sui nervi, uno dice ma è il cric-crac? No, in realtà è un impulso che stiamo dando al nostro nervo. Il nostro nervo con questo impulso è come se si andasse a resettare. Ora ci sono tante altre tecniche, anche in osteopatia si possono fare delle tecniche di accorciamento, delle tecniche di allungamento ma molto mirato sul punto, giusto? Non di allungamento generale come questo, che mi metto allungare tutti i muscoli a fare il cosiddetto stretching statico, che tutti sanno io sono contrario. Ci sono altre tecniche di contrazione del muscolo e rilassamento e guadagno di escursione articolare, si chiamano le tecniche di energia muscolare, quindi adesso per non fare il pipone a chi non è osteopata, sappiate che ci sono tante tecniche che agiscono sui nervi senza fare dolore al paziente, possono ottenere il risultato di andare a sciogliere i muscoli. Grazie per l'attenzione, ora guarda questo video che ho preparato con cura per spiegarti bene cosa fare. Prima però non dimenticare di mettere like, condividere con tutti i tuoi amici per farli stare bene e lascia un commento per qualunque domanda o suggerimento. Rimaniamo in contatto, seguici su Facebook, Instagram e TikTok.